Nella categoria 4, Puledri del 2007, col pettorale 35, al quinto posto si classifica Shonshon Rose Chandra, figlia di Mkair Katar e di Sweet Rose, proprietario azienda agricola Monte Cucco, allevatore Augusto Sacco. Luca Oberti presenta RS Ansharif, che si classifica al quarto posto, figlio di Vuec Giustizze di Ansarea, proprietario e allevatore Gagan Vivienne. Sous-titrage ST' 501 Con il pettorale numero 40, sempre Luca Oberti presenta RFI Farid, che si classifica al terzo posto, figlio di RFI Maktoub e di RFI Fayara Eschiraz, proprietario Aretusa Rabian Stim, allevatore Rodrigo Forte. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Secondo classificato Versus Magic e medaglia di bronzo nella finale di campionata per questo splendido puledro, figlio di Ivervalde e Magic Lauret, proprietario e allevatore Giuseppe Fontanella. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501